Sono 213 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, su 2393 tamponi processati. Il tasso di incidenza dei positivi torna così al di sotto della doppia cifra, attestandosi all'8,9% contro l'11,4% di ieri. I 213 nuovi casi hanno età compresa tra 9 mesi e 97 anni e sono residenti o domiciliati, 28 in provincia dell'Aquila, 86 in quella di Chieti, 34 in quella di Pescara, 62 in quella di Teramo. Scende di una unità, il numero di persone fuori regione, sono 4 in più quelle per cui sono in corso, verifiche sulla provenienza. I positivi odierni con età inferiore a 19 anni sono 26, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Teramo. E sono complessivamente 36.287 i casi di Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 1.252 registrando 12 nuovi casi di età compresa tra 73 e 100 anni, 7 in provincia dell'Aquila e 5 in provincia di Chieti. Del totale odierno, 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi 23.941 dimessi guariti, più 312 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.094, meno 111 rispetto a ieri. 471 pazienti, più 5 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 39 invariato rispetto a ieri e con due nuovi ricoveri in terapia intensiva. Mentre gli altri 10.584, meno 116, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Intanto prosegue nel pescarese lo screening di massa per la ricerca del Covid. Dopo i primi comuni partiti già ieri, tra cui Montesilvano, domani le operazioni prenderanno il via a Città Sant'Angelo e l'8 gennaio a Pianella. In particolare a Città Sant'Angelo l'avvio dell'attività, inizialmente previsto per giovedì, è stato anticipato a domani. I tamponi verranno effettuati tutti i giorni in due turni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, senza alcuna prenotazione nella tensostruttura montata nella sede della Croce Angolana, accanto al cimitero capoluogo. Sul sito ufficiale del Comune è reperibile il modulo che dovrà essere compilato e consegnato ai volontari per sottoporsi al tampone, insieme alla propria tessera sanitaria e a un documento di identità. In base ad accordi telefonici intercorsi tra i sindaci Matteo Perazzetti e Gianfranco De Massis, anche i cittadini di Elice potranno effettuare tamponi a Città Sant'Angelo. A Pescara lo screening di massa invece inizierà lunedì prossimo 11 gennaio su base volontaria e i cittadini dovranno portare con sé carta di identità e tessera sanitaria. Essi svolgeranno solo di pomeriggio, dalle 15 alle 19. 30 le postazioni individuate in 5 zone diverse, vecchia stazioncina di Porta Nuova, tenso struttura verte di Zanni, tunnel ex mercatino etico della stazione centrale, pattinodromo, via Maestri del Lavoro e centro fiere di via Tirino. Appena ci sarà ulteriore personale disponibile, altre postazioni saranno individuate nella scuola di San Silvestro. Nei giorni 11, 12 e 13 gennaio lo screening sarà fatto solo su prenotazione da effettuare tramite la piattaforma in allestimento sul sito del Comune di Pescara. Dopo il 13 di gennaio basterà mettersi in fila. Per le scuole superiori lo screening con i tamponi rapidi partirà giovedì 7 gennaio senza necessità di prenotazione.